Quante volte mi è capitato, cioè durante la giornata arrivare a dire noci è proprio una giornata d'inverno Sento di casa, vesto una merda, salto un cancello e mi strappo l'uccello Mangio una mela, soffice e delicata, sto ora al cesso perché è l'avvelenata Faccio la spesa, la faccio di corsa, mi rubano il carrello e persino la borsa Cammino tra il casino, mi ciampo in un tocchino, faccio una sporta, vedo una donna morta Io posso dire che è proprio una giornata d'inverno e voglio aggiungere che non ne voglio così